la mattina è di presto e presto e poi non ci vedo più dalla famosa ma che c'è c'è il mio panino di un oratorio? Maglio come vuoi fare le stasicce con un contorno, i paparoli, i patatini, i pignoli? Oh i paparoli non sono in scena, la cosa è più leggera Maglio fare un roccolo e le stasicce Prego Maglio, mangiare e fare un buon saluto Accattatevi il novanino all'oratorio Non fare il pelo chiuso 4 euro, accattate il novanino